Servi Serena Dandini, buonasera e benvenuta di martedì. Un grande piacere essere qui con te. Allora la conoscete, conduttrice televisiva, scrittrice, perché con lei parleremo del suo nuovo libro La vasca del Führer, edito da Einaudi. È una biografia romanzata della fotoreporter Lee Miller. Chi era? Lee Miller era una donna libera, bellissima, che è stata una modella negli anni venti. Dopodiché ha deciso che era troppo poco essere una fotografia e voleva essere lei una fotografa e quindi dare il suo punto di vista e il suo sguardo sul mondo. È diventata fotografa, è andata a Parigi, è stata l'amante e la musa di Man Ray, ma anche il ruolo di musa le stava stretto e quindi è diventata anche una fotoreporter di guerra. Durante la seconda guerra mondiale è stata una tra le prime donne a entrare in un campo di concentramento e a documentarne l'orrore. Questo in sintesi, ma è una vita ricchissima. E ora ne parliamo, perché attraverso le persone, conosciamo anche la nostra storia, tu attraverso le tue trasmissioni hai raccontato l'Italia in tantissimi momenti della nostra storia. Questo è un momento importantissimo. Come abbiamo reagito a questa epidemia e come l'abbiamo vissuta? Come ti è sembrato? È chiaro che l'Italia è colpita, è sofferente, si è scoperta fragile, questo è indubbio, però secondo me ha reagito in una maniera straordinaria, nonostante tutto, togliendo le eccezioni che abbiamo visto, che abbiamo sottolineato. Perché se ci pensi, dopo la guerra le generazioni hanno vissuto solo liberazioni, non abbiamo vissuto la liberazione dal nazifascismo, la liberazione sessuale, la liberazione da leggi odiose come il vecchio diritto di famiglia. Quindi non siamo abituati a delle restrizioni così forti delle nostre libertà personali, a un nemico così. Quindi se pensi a questo, credo che abbia reagito in maniera molto forte. La tua capacità... Io sono orgogliosa di come hanno reagito gli italiani. Ecco, perché tu hai avuto sempre una capacità, quella di mostrare con profondità, ma anche con leggerezza, il lato anche ironico della vita, le cose che fanno sorridere di noi stessi e soprattutto della nostra classe dirigente. Da questo punto di vista, come possiamo aver perso questa capacità di ridere o la manteniamo? Io credo che non si può perdere, anche perché è uno sguardo quello della satira, dell'ironia, secondo me salvifico, terapeutico, perché poi ridendo tu riesci a vedere magari dei lati come fa il giornalismo in un altro modo. Secondo me non si perde, non si è persa. Magari c'è più forse in rete, adesso abbiamo degli esempi. Sì, ci siamo spostati. Si è spostata, però non finirà mai. Perché è una dimensione più individuale. Altro aspetto delle tue trasmissioni, la tv delle ragazze, l'ottavo nano, avanzi, parla con me, ferita a morte, che era ispirata a fatti violenza sulle donne. Gli ultimi stati generali, solo alcuni questi, hai sempre raccontato le donne e la condizione femminile. Ne abbiamo avuto, soprattutto inizio trasmissione con Ilaria Capua e la professoressa Finzi, un momento in cui, forte, loro dicevano, guardate, partiamo anche solo dal dato che sono meno cagionevoli in questo aspetto della salute e ragioniamo sul ruolo delle donne. Bene, meno cagionevoli e poi sono quelle, però, e questo secondo me è importante sottolinearlo, che hanno tenuto botta durante questa pandemia, nel senso che si è moltiplicato il lavoro di cura in casa, sono le prime che hanno perso il lavoro perché hanno il record dei lavori precari, però hanno tenuto duro, no? Sì, loro dicevano che la capacità di sacrificarsi insita in quello che è stato un genere che ha sofferto molto. Sì, bisogna però ricordarsene, specialmente adesso che si fanno tutti questi comitati dove bisognerà decidere questi famosi soldi. Secondo me investire nel empowerment femminile, nelle politiche di genere, in tante cose che riguardano appunto la vita delle donne, insomma, non ho visto, mi sembrano percentuali piccoline. Sì, addirittura nel CTS le hanno dovute aggiungere successivamente. O anche nei grandi comitati, i scientifici devono aggiungere donne per tappare delle pezze. Sì, poi comunque non fanno quello che dico. Ricordiamoci che ci sono scienziate straordinarie. Perzino scienziate donne. Senza. Senti Serena, dunque, qualcuno ha paragonato questa pandemia a una guerra e lei lo rifiuta con forza questo paragone, racconta la storia invece di una donna speciale, abbiamo detto Lee Miller, abbiamo detto chi era, ma uno dei gesti più noti è quello che dà il titolo al suo libro, un bagno nella vasca del bunker di Hitler. Qual è la storia di questo bagno? Lei, come ti dicevo, è stata tra le prime donne a entrare in un campo di concentramento a Buchenwald e a Dachau, ha fatto delle foto incredibili, che peraltro, essendo lei un'inviata di Vogue in un cortocircuito incredibile, pubblicava su un giornale di moda, che però aveva capito che era importante essere sulla realtà. tornando dai campi di concentramento è arrivata a Monaco di Baviera, è entrata in questo appartamento molto borghese o piccolo borghese che le truppe avevano sequestrate e scopre che è l'appartamento di Hitler a Monaco di Baviera, quello che divideva con Eva Braun. E lei, che è stata anche un'artista surrealista ed era comunque in un momento piena di rabbia e di orrore per quello che aveva vissuto, decide di fare un gesto, se vuoi, artistico, ma quasi una vendetta artistica nei confronti del Führer e di quello che aveva provocato il male che aveva provocato questo uomo. E quindi si immerge nuda nella vasca del Führer, nel vero bagno di Hitler, mettendo una foto di Hitler che lo costringe a guardarla in questo gesto un po' irriverente e spudorato e con gli stivali sporchi del fango di Dacao insozza questo bagno immacolato. Ed è una foto che mi ha colpito tantissimo, che scavalca il tempo, perché adesso noi siamo abituati a migliaia di immagini, magari ininfluenti. Invece una foto così scattata da una foto reporter, che era rarissimo per una donna fare quel lavoro, tanti anni fa ha scavalcato il tempo e è arrivata diretta a noi e ci dà molto da riflettere, sulla libertà d'espressione anche. E anche sul tempo, come dici tu. In qualche misura tu usi questo libro anche per fare delle riflessioni su come sia cambiata la condizione femminile in cento anni. Sì, diciamo, non è un saggio sulla condizione femminile, però è uno spunto, perché come dicevi tu, le vite degli altri sono uno specchio per noi e riusciamo a vedere in controluce anche magari delle nostre sconfitte o delle vittorie che forse potremmo ancora avere. Devo dire che il primo tra le due guerre è stato un momento di grande libertà e di grande forza, molte conquiste che poi ogni tanto, come succede nei periodi di crisi o di guerra, le donne riescono ad allargarsi. Sì, soprattutto nella prima guerra mondiale, assunsero dei ruoli e dei compiti che erano tipicamente maschili, ma gli uomini dovevano partire. E subito dopo, finita la guerra, le riportano nei recinti. Quindi bisogna sempre tenere molto la guardia alta, perché i diritti come li conquisti possono togliere, questo lo dico alle giovani generazioni, non date per scontato le battaglie delle nonne. Allora, so che ci tieni a ricordare Lidia Menapace, che è stata un'amica anche di questa trasmissione, senatrice, simbolo della resistenza, pacifista, femminista e scomparsa da poco per il Covid. Vedi, a proposito, ci tengo tantissimo perché era una gran donna, tra l'altro una donna spiritosa, ironica, piena anche di vita, odiava la retorica, per cui non bisogna farne un santino, ma cercare di ricordarla nella sua freschezza e vitalità. E lei ha sempre combattuto per i diritti delle donne, dicendo che i diritti delle donne erano i diritti di tutti, e infatti in ogni paese dove sono rispettati di più, l'economia va meglio, c'è più benessere, più pile, anche più felicità. Poi lei era una disobbediente. Secondo me ci vuole un po' di disobbedienza per andare avanti nell'emancipazione. Lei ha disobbedito a Togliatti. In che modo? Perché il 25 aprile, quello, il primo della liberazione, Togliatti non voleva che le partigiane sfilassero in corteo per le strade di Milano. Perché diciamo, sai, erano donne che erano state in montagna con i partigiani, un po' delle poco di buono, il popolo non avrebbe capito. E lei e le ragazze, le partigiane, si sono rifiutate e hanno sfilato lo stesso. Ci vuole un po' di disobbedienza per andare avanti. Allora, tu che hai avuto tanto successo in TV, adesso lo stai avendo giustamente anche come scrittrice. C'è un dato sulle classifiche dei libri che ci ha colpito. Hai visto che in cima alle classifiche c'è un libro fatto di pagine bianche. Tutte pagine bianche il titolo è Perché Salvini merita fiducia, rispetto e ammirazione. In realtà è una battuta che si è trasformata in un libro, trovo, geniale, si pensa che è bello, no? Non scrivi niente e stai in cima alle classifiche, è come un sogno. È una provocazione, anche un gesto un po' surrealista. Infatti. Allora, Lee Miller, la vasca del Führer, Serena Dandini, grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. Grazie a voi.